Ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di Around the Table Oggi torniamo su un gioco che abbiamo aperto assieme qualche tempo fa Un gioco che avevo deciso di non portarvi come a che gioco stiamo giocando per non scontentare nessuno E di cui vi avevo dato una veloce panoramica dopo una velocissima lettura di manuale Tra le riprese dell'unboxing vero e proprio e le conclusioni Però giocando a questo gioco mi sono reso conto che alcune informazioni che vi avevo dato In realtà poco importanti non erano proprio corrette o meglio avevano un'interpretazione diversa E soprattutto giocandoci mi è venuta voglia di darvi la mia opinione Sto parlando ovviamente di Stranger Things di Escape Game salvate Will è 11, è 11, l'Escape Game di Stranger Things Una proprietà intellettuale che sapete benissimo mi appassiona tanto sin dalla prima stagione E questo gioco ci riporta proprio nella prima stagione di Stranger Things Quindi quando è arrivata agli amici di Artemis ovviamente mi sono fiondato ad acquistarlo Oggi vi do fondamentalmente la mia opinione e correggo quel piccolo errore che ho fatto durante l'unboxing Quando si parla di Escape Game di solito rimaniamo all'impedia e facciamo così anche questa volta Il setup del gioco prevede fondamentalmente di prendere la mappa di Hawking e metterla al centro del tavolo Accanto a questa mappa posizioneremo le carte scenario che sono queste belle grandi Poi le carte indizio E a questo punto dobbiamo cominciare a dividere le carte ruolo Ed è proprio sulle carte ruolo che ho sbagliato Nel manuale dice di dividerle quanto più equamente possibile tra i giocatori seduti attorno al tavolo E nel caso fossimo dispari o non fossimo proprio 8 E quindi pensavo che in realtà fossero proprio dei ruoli stabiliti, precisi In realtà come vi ho fatto vedere anche nell'unboxing Ogni carta personaggio ha nel suo retro un oggetto che può essere fondamentalmente un indizio che ci sarà utile durante la partita Fidatevi, queste carte viaggeranno velocissime attorno al tavolo nelle mani di tutte le persone sedute per l'appunto a round table Quindi non è che nella partita sarete propriamente Mike per sempre oppure Jonathan No, fondamentalmente sono degli indizi che avete da principio prima di cominciare per l'appunto la partita Durante la divisione dei ruoli ricordatevi di eliminare per il momento la carta di Will e di 11 Ovviamente come in ogni escape game avrete bisogno di carta e penna per ogni giocatore seduto a round table Però il setup si conclude con Il nostro smartphone con cui dovremo scannerizzare il codice presente sul libro della missione per far partire l'applicazione sul portalino di MS Edition E a questo punto siamo pronti per giocare Strangertick di Escape Game Salvate Will e 11 E un escape game da 2 a 8 giocatori Per la durata di, beh, quanto ci metterete a risolvere i 15 scenari di cui si compone questo gioco Ci ritroveremo a Hawkins nel periodo della prima mitica stagione di Strangertick Prima dovremmo salvare 11, poi Will e forse riusciremo a sventare la minaccia che incombe sul mondo intero Ma vediamo nello specifico come fare tutto ciò Innanzitutto dovremmo prendere le carte scenario e scoprire la prima Le carte scenario hanno un titolo, un luogo, ovvero quello scenario specifico La sinossi della nostra missione è effettivamente quello che dovremmo fare per ottenere i codici per sbloccare quella missione Infine troveremo anche le carte indizio che dovremmo pescare in questo scenario Recuperate le carte indizio possiamo far partire l'applicazione Come possiamo vedere l'applicazione ha fondamentalmente un timer con un avvio e una pausa Il lucchetto dove inserire i codici che abbiamo trovato durante le nostre indagini Abbiamo i tre indizi e la soluzione E fondamentalmente l'applicazione è tutta qui Incrociando gli indizi che troviamo sulle carte con magari gli indizi che appartengono ai singoli personaggi di Stranger Things Dovremmo ottenere un codice numerico di quattro cifre che può contenere anche lo zero Da inserire nell'applicazione per poi sbloccare il prossimo scenario Nell'unboxing vi avevo detto anche che se non aveste voluto usare l'applicazione Avreste potuto tranquillamente usare il libro della missione Ma vi avevo anche detto che ero molto confuso sull'utilizzo di questo manuale Vi dico che aprendo la scatola per giocare non mi è passato nemmeno per l'anticamera del cervello Di adoperarlo come lucchetto oppure in realtà per verificare se i codici che avevo trovato erano quelli corretti E' molto più comodo adoperare l'applicazione Sai in questo manuale che nell'applicazione ci sono gli indizi Gli indizi sono molto simili a quelli che ci troviamo di fronte durante Giocando a tutte le escape game che conosciamo Quindi il primo indizio ci dirà fondamentalmente una cosa che già abbiamo fatto Anche il secondo ci dirà che quello che abbiamo già fatto è corretto Il terzo forse ci straderà verso una risoluzione L'ultima cosa è proprio la soluzione quando gettiamo la spugna Fondamentalmente una volta adoperate le carte indizio le dovremmo scartare Però c'è da dire che alcune carte indizio reperite in un determinato scenario Non è detto che ci servano a risolvere proprio quello scenario Ad esempio se nello scenario 4880 troviamo un indizio 27 Non è detto che ci serva per quello scenario Potrebbe servirci per risolvere lo scenario 800 miliardi e 400 Penso di essere abbastanza chiaro E la partita va avanti così per i 15 scenari Fino a quando noi risolveremo il mistero Risolveremo tutti i nostri enigmi Fondamentalmente il gioco è tutto qui Una normalissima escape game Però nell'unboxing vi avevo anche detto che La cosa più importante in ogni escape game per quanto mi riguarda E la qualità degli enigmi E vi devo dire che giocandolo ho trovato gli enigmi molto ben congeniati Molto belli, mi sono piaciuti veramente tanto Il primo scenario, il primo enigma è abbastanza tosto O meglio, ci fa capire bene il livello in cui si svolgerà tutta la partita Gli altri si mantengono con una crescita costante Questo l'ho trovato molto bello Non li ho trovati frustranti Però li ho trovati sfidanti C'è bisogno di una buona capacità mentale per risolverli Io mi sono fermato per il momento al settimo scenario Perché eravamo particolarmente stanchi E questa è l'altra cosa che mi è piaciuta molto di questo escape game Il fatto che sia diviso in scenari è molto comodo Perché magari se siamo molto stanchi una sera E abbiamo risolto per l'appunto il sesto scenario E volessimo mettere in pausa il gioco È possibile farlo Semplicemente prenderemo le carte Indizio che abbiamo usato Le mettiamo sul fondo della scatola Ci mettiamo il separatore Prendiamo le carte che non abbiamo ancora usate Le mettiamo nel legaccio quello originale Facciamo lo stesso anche con le carte scenario Che non abbiamo ancora adoperato Le carte indizio e le carte personaggio Le mettiamo ancora una volta da parte In un altro legaccio Magari scrivendolo ancora in uso Inoltre come avete visto L'applicazione conserva in memoria I nostri progressi Quindi ci dirà il tempo che ci stiamo ancora mettendo E soprattutto in che scenario siamo Non so esattamente per quanto tempo Però sono assolutamente convinto Che se cancellate la cascia del telefono Tutto questo andrà via E questa è una cosa che mi è piaciuta moltissimo Un'altra cosa che mi è piaciuta veramente tanto È questo manuale Non come Per sapere se per l'appunto abbiamo trovato i codici giusti Ma più che altro perché all'interno di questo manuale Ci sono le soluzioni vere e proprie di ogni scenario Quindi c'è proprio il ragionamento Che ci porterà ad ottenere il codice L'ho trovato molto interessante L'ultimo scenario che abbiamo risolto Eravamo parecchio stanchi Quindi non siamo riusciti a risolverlo Nonostante l'uso dei tre indizi Quindi abbiamo deciso di avere la soluzione Però poi siamo andati a vedere effettivamente Come si svolgeva il ragionamento Ed è molto utile perché magari Quando si chiede la soluzione E non si capisce effettivamente come Siamo arrivati a quel risultato Diventa molto frustrante Questo invece è molto interessante Però devo tirare un po' le orecchie a MS Che fino a questo momento ha fatto un lavoro splendido Qua nella parte delle soluzioni Il capoverso della soluzione dello scenario Recita scenario X E poi direttamente il codice Non mi piace L'ho trovato sbagliato Secondo me bisognava semplicemente mettere Il titolo dello scenario Tutta la risoluzione E poi effettivamente il codice Che avremmo dovuto ottenere Perché se magari io non ho capito esattamente Gli indizi che mi hanno dato Però voglio comunque tentare di capire Se voglio comunque tentare di ottenere io il risultato Magari posso cominciare a leggere La soluzione E poi vedere se riesco comunque a ottenerla io Molto diverso Avere direttamente Il codice da inserire Sarebbe più interessante Magari riuscire a capire Se magari appunto come fare questa cosa Un po' come facevano Con il libro game Che vi ho consigliato Questo è stato Dove c'era la soluzione Fotogramma per fotogramma E poi magari uno riusciva a formarsi Comunque da solo La soluzione Magari accompagnato un po' per mano Ma comunque Reputo che sia meglio Questo tipo di Soluzione Rispetto a una soluzione Dice direttamente Il codice è questo E così abbiamo fatto E' semplicemente Una limatura Su un gioco Che mi è piaciuto parecchio L'ultima cosa Che riguarda L'escape game Di Stranger Things E' Se sentiamo Effettivamente L'ambientazione Si Si sente tutta L'ambientazione I personaggi Si sentono Nonostante Ovviamente Non è che Siano così Fondamentali Però La scelta di adoperare I personaggi Con un indizio Strettamente legato Dal personaggio La scelta Di determinati Tipi di Puzzle Da risolvere Fa sentire Veramente Tanto L'ambientazione Di Stranger Things E questo Secondo me E' un plus Per un escape game Veramente Di livello Buono E a questo punto Però mi aspetto Di sapere Da voi Cosa ne pensate Di Stranger Things Salvate Will Eleven Di Escape Game Se anche a voi E' piaciuta Quanto è piaciuto a me Oppure se non vi è piaciuta Per niente Se vi trovate Questi negli Banali Stupidi Fatti mali Frustranti O quant'altro Scrivetemi Tutto quello Che pensate Qui sul canale Youtube Ma anche su Facebook Instagram Twitter E TikTok A questo punto Non resta altro Che salutarci Per ritrovarci Sempre qui Sempre a O Kids O a Roundtable Ciao a tutti Ciao a tutti Ero